La Russia rientra nell'accordo per il trasporto del grano. Il Cremlino ha ricevuto garanzie scritte dall'Ucraina sull'inammissibilità dell'uso del corridoio del grano per azioni militari contro Mosca. La Russia aveva ritirato l'accordo all'inizio di questa settimana dopo che le navi della sua flotta del Mar Nero sarebbero state attaccate sabato a Sebastopoli da presunti droni ucraini. Il gran mediatore è stato ancora una volta il presidente turco Erdogan che per primo ha dato la notizia al Parlamento di Ankara. Dopo la telefonata di ieri con Putin il ministro della difesa russo Shoigu ha chiamato il nostro ministro della difesa e lo ha informato che le spedizioni di grano continueranno da mezzogiorno di oggi come previsto. Erdogan ha poi affermato che l'accordo darà priorità alle spedizioni verso i paesi africani tra cui Somalia, Djibouti e Sudan in linea con la preoccupazione della Russia secondo cui la maggior parte del grano avrebbe potuto raggiungere le nazioni più ricche, in particolare quelle europee e non i paesi più bisognosi. Il portavoce del ministero della difesa russo Igor Konashenko va dichiarato. La federazione russa ritiene che le garanzie ricevute siano sufficienti e riprende l'attuazione dell'accordo per il trasporto sicuro di grano e cibo dai porti ucraini sospeso dopo l'attacco terroristico a Sebastopoli. Nonostante la sospensione dell'accordo da parte della Russia, lunedì e martedì diverse navi hanno lasciato i porti ucraini del Mar Nero. Nessun movimento di navi di grano è previsto per mercoledì secondo l'organismo internazionale che sovrintende alle esportazioni.